Ciao a tutti, bentornati sul mio canale! Allora, nuovo video! Ed è un video che ho pensato grazie al commento di una di voi che mi ha detto Giulia, ma esiste un prodotto che sia SPF, trattamento, primer, trucco, che metto solo quello, boom e sono a posto nel caso ti faccio un monumento? Non farmelo perché esiste! Ne esistono tanti di questo tipo in tutte le fasce prezzo e con azioni diverse e texture diverse Oggi vorrei parlarvi proprio di questi prodotti che secondo me anche con l'avvicinarsi del caldo possono essere un'ottima idea Quindi, applicheremo il nostro siero e poi volendo, boom! Solo questo tipo di prodotto Che cosa sarà quindi quello di cui parleremo oggi? Un prodotto che ha un'azione di priming e trucco un SPF il più alto possibile e un'azione di trattamento Quindi, di che cosa non parleremo? Non parleremo dei semplici primer trucco con SPF Ad esempio, il mio adorato Unseen Sunscreen di Supergoop Ottimo primer trucco SPF 30 Completamente trasparente, quasi siliconico al tatto Ma non ha peculiarità di trattamento Quindi comunque va applicato dopo la vostra skin care routine Di recente ho comprato anche il nuovo UV Base SPF 50 di Bite & Ray Che è un primer SPF 50 Ma anche qui, più che la vitamina E non c'è Sono molto curiosa però di provarlo Oggi invece vorrei parlare di un prodotto che fa uno step up Rispetto a questi, ma presto che è tardi Allora, ammetto che più vado andiamo verso i prodotti Tecnologicamente a livello cosmetico complessi Più ho difficoltà a trovarli low cost Ma qualcosa vi ho trovato E mi vorrei poi soffermare maggiormente su quelli che sono i miei preferiti E nel dirvi anche perché sono i miei preferiti Allora Partiamo random Partiamo da lui Allora Questo è di Elena Rubinstein E fa parte del Prodigy, della linea Prodigy Style Glow Questo è il The Sheer Rosy UV Fluid Questo è un SPF 50 ad ampio spettro E contiene cellule native di Edelweiss Più un'altra serie di attivi all'interno E protegge anche dall'inquinamento E ha un effetto È testato anche su pali sensibili E ha un effetto glow È leggero come l'acqua Guardate Non so se si vede Acqua E zero cast Zero Si assorbe con un effetto quasi leggermente più cipriato Ma rimane molto glossato sulla pelle Sicuramente uno dei miei preferiti È molto difficile formulare un buon primer trucco con SPF Perché spesso diventano gesso Oppure pasta di zinco Poi Allora questo non l'ho ancora aperto Perché ho la taglia deluxe Ma non l'ho trovata per il video Comunque è famosissimo È il Murad Age Reform Si chiama Invisibler Perfecting Shield Brow Spectrum SPF 30 ad ampio spetto Questo è un prodotto che contiene mushroom peptide Ha una texture velvet È un anti-aging con SPF ed effetto blur Guardiamo che giumento lì velocemente l'inci Continua un sacco di cose Ribes nigrum Peonia Rosmarino Olio insieme di girasole Cucumber Mushroom appunto Vitamina C Vitamina E acetata C'è un sacco di cose Io però ho un problema con questo prodotto Ha una texture praticamente identica All'ansine sunscreen Ma più siliconico E più Cioè è come se io lo sentissi quasi occlusivo sulla mia pelle Fa quello che dice sì È pienissimo di attivi sì È molto levigante sì Perché ha proprio questa texture siliconica Ma diciamo che in questa categoria di prodotti Ci sono prodotti che preferisco di più Ma comunque non dico sia un cattivo prodotto Non rientra diciamo nei miei top in questa categoria Ok vi svelo uno di quelli che mi ha fatto proprio perdere la testa Lo adoro È quello che indosso anche oggi sotto il mio fondotinta È un prodotto No non sei tu È questo È un prodotto coreano È di Thank You Farmer E si chiama Sun Project Shimmer Sun Essence SPF 30 Ad ampio spettro Allora Mi rendo conto che Uno legge Sun Shimmer Sun Essence E dici Oh glitter No Ed è quello che ho pensato anch'io Fino a quando poi ho letto varie recensioni E ho detto Ma dicono tutti che non ha glitter Top Allora Questo viene definito Brightening e wrinkle care Dunque Uh clarity of spring water Love it Dunque guardiamo l'inci Se è in italiano o in qualcosa Ok vediamo un po' Capretto di gliceridi Ok Burro di karité Vitamina E Portulaca Oleracea Una serie di oli Di estratti Aloe Anche qua c'è Dioni Rosea Flower Extra Altea Potete scriverlo più piccolo A vedere se ci vedo Si direi che Di rilevante c'è questo Una serie di oli Una serie di estratti Ma La cosa che io amo di più È il finish È Questa pasta È molto simile Al Al Narobinstein Ma ancora più leggero Ancora più evanescente Sulla pelle Con questa Guardate Già finito È questo gel Leggerissimo Questa lotion Che dà un effetto glow Alla pelle bellissimo Senza shimmer visibili Bellissimo Stupendo Meraviglioso Lo adoro Quindi È già E ve lo dico È uno dei miei preferiti Di recente Anche Dior È uscita con un prodotto simile Si chiama Forever Skin Veil SPF 20 Che cosa fa questo? Corregge Illumina E idrata Questi sono i tre claim Del prodotto Contiene estratti floreali E ha un SPF a punto 20 Quindi è già un SPF medio Questo a differenza dei precedenti È un bagno di becco Contiene un bagno di beige Quindi come vedete Ha questo colore quasi beige albicocca Che però non rilascia pigmento sulla pelle Ma È una lozione leggera Che aiuta ad idratare la pelle E lisciarla Con una leggera azione cromocorrettiva Leggerissima Devo dire che mi piace Ma diciamo che io personalmente Mi rivolgo a SPF più elevati Se però Non applicate al di sopra Un altro SPF Perché no? È una formula che mi piace molto Poi Anche Bobbi Brown Ce l'ha il primer plus protection SPF 50 Mi piace Preferisco altri primer Di Bobbi Brown Però è un ottimo primer È un ottimo primer Andrei Verso un prodotto low cost Eccezionale Eccezionale Ma è uno dei miei preferiti Ed è low cost Ve lo dico prima Questa è di una marca Che si chiama Manhattan Ed è il Protect Primer Multi Protection UV Anti-pollution Anti-stress Skin Perfecting SPF 25 Dunque Questo prodotto Mamma mia Ma scrivono l'inci Così piccolo Che vi giuro Non leggo Ma è una cosa assurda Non leggo Comunque Olio di argan Vitamina C Vitamina E All'antonina linitiva Adoro Sodio PCA Mi piace Vitamina E Acido ialuronico Tubino Comodo Guardate Questa è una lotion bianca E infatti Io ho detto No Questa sbiancherà da matti E invece guardate Voi lo applicate Ovviamente Allora Un minimo Gli SPF Se non gli diamo Un bagno di beige Non gli diamo Un pigmento Il bianco in fase di Lavorazione Lo dà Ok Però una volta assorbito Il bianco è sparito Ha un effetto Molto meno glow E più leggermente Quasi levigante Rispetto ai precedenti Per il prezzo Che ha Questo è un primer Eccezionale Per quanto mi riguarda Specialmente per il prezzo Quindi Ve lo volevo segnalare Poi Amiche Trottatrici Sane di rossori A me Thank you farmer Avete capito Che è un marchio coreano Mi piace molto Questo è il Be beautiful Pure makeup base Nel colore green Ma non c'è soltanto Green Ma dov'è? C'è Ah ecco Dicevo Dove è l'SPF Cioè Questo è un SPF 30 Ad ampio spettro E fa parte Della linea Skin tone correcting Ci sono anche Altre colorazioni E E anche protettivo Per la pelle Contiene Niacinamide Adoro Poi contiene Vitamina E acetata Una serie di estratti Anche questo E Sì Questo è quello Che vi voglio dire Acido ialuronico Allora Questo ovviamente Se avete rossori È top Perché avete anche Un'azione cromocorrettiva Oltre che un'azione Priming Un'azione Microtrattamento Un'azione SPF Ma Non è un prodotto Che potete mettere Se non applicate Il make up All di sopra Perché comunque Il green Rimane E ha un'azione Quasi sbiancante Sulla pelle Che personalmente A me va molto bene Perché rimane Questo velo Lattementa Che poi io copro Con il mio fondotinta Ma mi attenua i rossori Cioè fa esattamente Quello che deve fare Ma Su una pelle Mediterranea Abbronzata Scura Non è il prodotto adatto Ma in generale Quel tipo di pelle Difficilmente soffrono Di rossori In quel caso C'è un lilla Che è perfetto Perché è un anti dullness Ma coperto con un fondotinta Ha un effetto Che sui rossori A me piace molto Devo dire Però se non cerchiamo Un cromo correttivo E vogliamo qualcosa E vogliamo qualcosa di glow Poi Un altro primer Che mi piace moltissimo Di questo genere È il Secret Shield Di Dolce L'Obbana Questo è Un Protective Smoothing Primer SPF 50 Ad ampio spettro E questo tra l'altro Contiene Il Mediterraneo Il Mediterraneo Glow Complex Che è una sinergia Di attivi naturali Che lo hanno messo Anche nella loro linea Di skin care E quindi Ha questa azione Idratante Antiossidante E ovviamente Protettiva Priming Questo va agitato bene Perché è molto liquido E questo È beige Come colore Ve lo mostro Al dropper E voi Una volta che lo lavorate Il beige Rimane leggermente Di più Che nel nuovo Dior C'è quasi un'azione Micro Micro Correttiva Ovviamente Ma Che mi piace molto Perché diventa Soft touch Quindi a differenza Di quelli glow Questo qua È più È un'azione Più quasi Leggermente Smoothing Anche sulla pelle Poi È uscito nuovo Della nuova collezione Le Blanche de Chanel Che ovviamente Ho comprato E Sono usciti Le Blanche La base O la base Non lo so Comunque io ho preso La rosè Quella rosata È un SPF 40 Ad ampio spettro E viene definita Correcting Brightening Makeup Base Long lasting Radiance And comfort Allora Qui all'interno Mamma mia Come scrivono piccolo Ma te prego Non ci vedo Cioè giuro Non vedo Contiene Rosa Multiflora Fluid Extract Niacinamide Pronosmume Che non so cosa sia Ma è interessante Squalane Poi contiene Acido Ialuronico Anche qui Vitamina E Anche qui azione di colore Trattamento Questo Ha questo rosato Che a me piace molto L'ho scelto per il mio incarnato Ma Ce n'è anche un altro Ma non ricordo Fosse un beige Non ricordo Molto molto leggero Molto molto fluido Un leggerissimo cast In fase di stesura Ma che sulla pelle del viso Non si nota Lo trovo molto simile Al mio adorato Thank you farmer Con la differenza Che questo rimane Ancora più glow Di questo Ma anche questo È un prodotto Secondo me Molto valido In questa categoria Dipende anche Dalle SPF che cercate Se lo volete glow Se lo volete navigante Se lo volete matte Quindi sto cercando Di darvi più informazioni Possibili su tutti questi E Sì ce ne sarebbero altre Ma mi fermerei Ve ne mostro un altro Low cost Che è quello di Catrissa Ma questo primer piace Ve ne parlai due anni fa Quando uscì Allora Questo qua Ha un SPF 15 Quindi è leggermente Inferiore a tutti quelli Che vi ho mostrato Ma è low cost In più è Idratante Anti rughe Glow Anti pollution Anti ossidante Pore minimizing Blur imperfection Yay Infatti lo chiamano Ten in one Questo contiene Tantissima niacinamide Glicerina Poi contiene Vitamina E acetata Contiene Ginger Basta Di rilevante Direi di sì E Anche questo Ha questa azione Leggermente Questo assomiglia Tanto al Dior Ma tanto al Dior Davvero Sia nel colore Il colore Ve li faccio vedere Aspettate Questo è il Dior Questo è il Catrissa Cioè vi garantisco Che la texture È praticamente Identica Se non fosse Guardate che roba Che il Catrissa È leggermente Ma neanche più scuro Forse C'è anche a livello Feeling A me Personalmente Sembra un dupe Quindi ve lo volevo Segnalare Purtroppo Se questo avesse Un SPF 25-30-50 Sarebbe Topissimo Però Già Prendiamoci L'SPF 15 E magari Se avete una pelle Especialmente come la mia Mettiamo Dopo al di sopra Un primer Un pochettino più alto Un SPF Più alto Però ve lo volevo Segnalare Velocemente Vi parlo anche Del Max Clinic Che è un marchio coreano Sì se non sbaglio Il Rosy Pink Tone Up Cream SPF 50 D'ampio spettro Questo è dedicato In modo particolare Alle pelli Ipersensibili Contiene Calamine Metaclucani Centella È super Super Lenitivo Tra l'altro Original Excellent Thermatest Dermatest Garanty Adoro Per il resto Tutto in coreano Questo qua ovviamente Una serie di attivi Super lenitivi Super calmanti Allora Tra l'altro Ha un'erogazione Pump comodissima Questo ha Questo ha color rosino E un minimo di cast In fase di stesura Cioè vedete Sbianca leggermente Più degli altri E Anche lavorato Ha questa azione Molto idratante Molto lenitiva Ben tollerato Anche da una pelle sensibile Ma rimane Proprio bello idratante E un minimo di luminosità Data dalla base rosi Rimane Quindi anche qui Secondo me Non adatto A una pelle Cioè C'è una pelle chiara Arrossata O comunque Che cerchi Un pigmento rosato Illuminante All'interno Ma per il resto Anche un bellissimo Effetto luce Dato dal pigmento rosato E Vabbè Ne avevo altri Ma basta Ok Vi parlo velocemente Anche del Nars Il Radiance Primer SPF 35 Base Eclat Fresheur Anche qui Avevo controllato Ha degli attivi Ma non ci sono scritti Sulla confezione Non li ricordo Questo qua Si chiama Cioè Lo vedete che è rosa Ma in realtà è quasi Un'albicocca E ha delle leggere Miche All'interno Vedete Ha questo colore Quasi opalescente E dà un bel effetto Glow alla pelle In questa categoria Era il mio preferito Prima di scoprire Il Thank You Farmer E il L'Elinar Robinson Cioè Delle tecnologie Ancora più nuove Perché questo c'è da parecchio E soprattutto perché Io cerco un SPF Un po' più alto Ma rimane Un ottimo 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 Prodotto Ho comprato Ho comprato di recente Ma non ho ancora provato Il nuovo Di Estée Lauder Perfectionist Pro Multi-Defense UV SPF 45 Con 8 antiossidanti All'interno Non vedo l'ora Di provarlo E viene definito Anche questo Oltre a un trattamento Ibrido Proprio perché Una super protezione E trattamento Tanto questo qua È un 100% Mineral Based Sunscreen Mi piace perché Viene definito Un Ideal Base For Makeup Non vedo l'ora Di provarlo Su questo ci aggiorniamo Ma il fatto che sia Della linea Perfectionist Che mi piace moltissimo E che sia un potentissimo Antiossidante Mi ha incuriosita subito Avevo anche Il White Pearlization Di Clavo Che è un altro coreano Questo è a metà È quello che ho usato Più spesso in questo periodo E questo qua È l'Ideal Actress Backstage Cream SPF 30 Viene definito Un 5 in 1 Perché in teoria È illuminante Primer Fa durare di più Il make up Trattamento E quindi viene chiamato 5 in 1 E anche qua Ha questa base Molto sbiancante All'inizio Ma che poi Lavorandolo Si perde Ed ha questo effetto Glow Leggermente Cromo correttivo Ma più che altro Illuminante Dato da un pigmento Comunque di base Che ha una base Bianca All'interno Non mi dispiace Ma preferisco I nuovi Che vi ho citato Ma rimane un ottimo prodotto Devo dire che Per quanto mi riguarda Questa tipologia di prodotto Ammetto che in Corea Li ho trovati tutti Piuttosto Validi Lo ha fatto anche L'UV Primer Diego Dalla Palma Questo qua è un SPF 50 Base trucco Ad ampio spettro E va agitato Io questo non l'ho ancora aperto Però ve lo segnalo Perché comunque Insomma Il fatto che abbiano fatto Un UV Daily Primer Mi piace molto l'idea E l'ultimo che ho testato Che ormai devo buttare Perché è vecchio Infatti non fa più protezione Ma ve lo dico È di Arc Skincare Ed è lo Skin Essential Skin Protector SPF 30 Primer Formulated for all ages Ah perché ci sono quelli Formulati solo per un tipo di Vabbè comunque Perché l'avevo preso Perché mi aveva incuriosito Perché senza parabeni Oli minerali Alcol Formaldeide Sodio l'oril Estrosulfate Artificial fragrance Artificial color Ha una base di nato Il più naturale possibile E protegge UVA UVB E ha un'azione Antiossidante all'interno Come attivi abbiamo Vitamina E Burro di karité Jojoba Mimosa E girasole Quindi non attivi Super ricercati Ma che fanno Quello che devono Texture fluida Come vedete Anche qui Sbiancante Ma poi il bianco Tende ad andare In fase di stesura E personalmente Con questo Mi è piaciuto Ma non da strapparmi i capelli Perché trovavo Che rimanesse Un pochettino Presente sulla pelle È comunque un ottimo prodotto Specialmente per chi lo vuole Il più naturale possibile Ma oggi Secondo me Prodotti come Il Dior Questo Dolce Gabbana Il nuovo Le Blanche de Chanel Cioè ci sono veramente Delle texture Molto molto sottili Che si sentono sempre meno E ad esempio Per una pelle grassa Se non volete L'aspetto trattamento L'uncine sunscreen È perfetto Così come anche il Murad Cioè dipende Sono prodotti Poi alcuni sono i miei preferiti Altri meno Ma sono tutti prodotti buoni Dipende se lo volete Cromo correttivo Coprente Glow Matte Levegante Eccetera Però insomma Spero che questa sorta di Maxi review È stata utile Per capire che cosa offre Il mercato In questa categoria di prodotto Che sì esiste E sì secondo me Anche andando verso l'estate Super uber funzionale Perché Meno stratifichiamo Meno la pelle trasuda E meno ci dà fastidio Se il video vi è piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel pollice in su E iscrivetevi al canale Perché adesso In la revisione dell'estate Cercherò di farvi più video possibile Su cose molto adatte all'estate Top per categorie di prodotti Un po' tutto in uno Non?